Musica Dimenticate la partita di calcio vissuta come una festa, come un momento di svago, incontro e confronto. Se mai il campionato dovesse ripartire in primis quello di Serie A, andare allo stadio sarà un privilegio concesso solo a pochissimi addette ai lavori e ci saranno una serie di regole rigidissime da seguire. Sono tutte contenute nel protocollo di 39 pagine per il quale serve ancora l'ok del comitato tecnico scientifico che è stato consegnato ieri dalla FIGC al ministro dello sport Vincenzo Spadafora. Il tutto in vista dell'incontro di giovedì prossimo che deciderà se davvero il 3 o il 20 giugno la palla ricomincerà a rotolare. Per il momento comunque resta valido quanto deciso per gli allenamenti collettivi con l'individuo colpito da Covid-19 in isolamento e il resto della squadra in ritiro per 14 giorni con possibilità comunque di continuare ad allenarsi. Lo stadio sarà diviso in tre zone, quella dell'area tecnica che comprende terreno di gioco recinto, di gioco tunnel e area spogliatoi, quella degli spalti ovvero le tribune e l'area media e infine l'area esterna all'impianto. Nessuno arriva agli stessi orari in stile tedesco, gli arbitri dovranno arrivare allo stadio un'ora e 45 prima del fischio d'inizio, uno per macchina, la squadra ospite un'ora e 40 prima suddivisa in più pullman e poi i calciatori della squadra di casa un'ora e 30 prima con auto proprie. E negli spogliatoi se possibile i titolari e riserve verranno divisi in ambienti diversi. Naturalmente a tutti sarà misurata la temperatura con il termoscanner, sono previste sanificazioni continue degli ambienti e degli oggetti utilizzati tipo il pallone e poi porte aperte, bottiette personalizzate, docce singole addirittura in casa e albergo quando non è possibile garantire la sicurezza. Non cambia il numero di persone allo stadio, 300 comprese 60 del gruppo della squadra in trasferta. Fra queste 300 oltre a calciatori e arbitri anche 6 raccattapalle maggiorenni, 8 componenti della delegazione della società ospitante, 4 di quella ospite e 6 addetti alle pulizie. Niente tifosi che saranno presenti virtualmente con cartonati o addirittura audio da stadio. E poi c'è tutta una lunga serie di divieti. Per quanto riguarda l'ingresso in campo avverrà in momenti separati per le due formazioni. Non ci saranno i bambini ad accompagnare i calciatori nella mascotte, vietate foto di squadre e telecamere negli spogliatoi. Come vietato sarà avvicinarsi a meno di un metro e mezzo dal direttore di gara. Niente abbracci, niente sputi, niente strette di mano per aiutare i compagni o gli avversari ad alzarsi. E allora ci chiediamo ma il calcio ai tempi del covid può ancora chiamarsi calcio? Grazie a tutti i nostri spogliatoi.